un'eventuale festa al Campo Nocci potrebbe essere per festeggiare come si vede i tornelli però non era quello il momento per ubriacarsi e darsi alla pazza gioia Senti ma secondo te la partita con il Levante è stata una partita che certo non è stata come ho detto con Alberto all'inizio della trasmissione dovevamo passarla in vantaggio al primo tempo, è stata abbastanza difficile, poi però quando siamo passati in vantaggio un po' il karma, questo karma ci ha un po' più volte aiutato perché quelli del Levante hanno sbagliato qualche gol c'è stato questo palo interno che poi è finita sulle braccia di McCandate e Stegen questo karma che poi ci sta portando dove ci sta portando secondo te i giocatori sapevano che non dovevano premere sull'acceleratore fin troppo per portare a casa questa Liga che hanno fatto il minimo indispensabile per tenere le forze, si è visto contro il Liverpool Sì assolutamente, alla fine se non era quello il match point, c'erano altre tre partite a disposizione di cui alla fine un'altra entrata, poi contro rivali non difficilissimi perché affrontiamo un Celtativo che comunque è in enorme difficoltà, un Getafe che sì si sta giocando la Champions League però comunque è un rivale sulla carta abbastanza semplice rispetto a una squadra magari un top club e poi affrontiamo l'Eibar che non ha più nulla da giocarsi, quindi tre punti gli avresti fatti, poi se ti mancava un solo punto dubito che non saremmo riusciti a farlo eventualmente, abbiamo avuto tantissime occasioni con Levante i primi minuti, soprattutto con Coutinho dove è mancata un po' di lucidà poi il portiere come spesso capita contro di noi, il portiere avversario è scimostro diventa Buffon, più Noyer messi insieme proprio contro di noi però doveva essere quel giocatore lì a decidere la Liga ed è stato lui il miglior giocatore diciamo di quest'anno, di tutti i nostri anni effettivamente sono contenta alla fine che abbiamo visto un Barcellona che ha dominato però come hai detto è stato il minimo indispensabile, nel senso che io non ho visto una fuga tremenda in campo contro il Levante e contro il Liverpool invece sì che l'abbiamo visto perché i giocatori hanno corso dal primo all'ultimo minuto alla fine rispetto all'anno scorso dove arriviamo di questo periodo che i giocatori non riuscivano neanche a camminare, c'è un abisso tremendo i giocatori contro il Liverpool davvero hanno corso dal primo all'ultimo minuto anche Messi ha corso tutta la partita, quindi abbiamo affrontato la partita con il Levante come doveva essere affrontata Beh abbiamo detto prima al collegamento con Lippi, con Massimo Lippi che le statistiche ci dicono che Leo si è riposato in tutte le stagioni di cui lo sta giocando e il mese di aprile vale praticamente un riposo di una stagione delle precedenti e questo è veramente importante Allora Petisso, aspetta che... Ah, fermi tutti, questa è una rapina Che è successo? Attenzione, perché ce l'aveva silenzioso Petisso, aspetta un attimo perché ora ti arriva a comprare le merende a te E arriva l'alto Buon Cecchini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. A 20 stavo veramente male, immagino a te Max che eri sugli spazi del Camp Nou, alle 20 stavo veramente male, erano anni che non stavo così male di attesa, ma poi alle 23 ero veramente felice. Tutti abbiamo vissuto il tuo stato d'animo e poi la forza del Camp Nou è che noi gulè entriamo sempre all'ultimo e quindi ci risparmiamo lo stralicidio. Magari ti fai l'ultima birra con gli amici a Casa Pinna, attraversare le scorze e poi vai. Sì, però insomma si fa più c'è ragione. Allora Petisso! Andiamo subito con Giuse abbiamo un po' parlato della partita del Levante, giusto per dare un po' di chiacchiera alla Liga, alla vittoria eccetera. Insomma, chi è che mi ha scritto? Ah ecco, bravo, Pietro Locatelli ci dice il Celta ha annunciato che farà il pasillo al Barça domani sera. E adesso siamo tutti felici e contenti. Grazie a Cagliegos. Allo Cagliegos, poi il Celta, diciamo, squadra club e squadra amica, insomma, non è mai stata contro il Barça, neanche con i propri tifosi. Però parliamo della Champions, che è quella, ragazzi, è quella, come dice Fabio, è quella con cui abbiamo sofferto e soffriremo anche martedì prossimo. Quindi Petisso, la partita come l'hai vista? Partita Albert, insomma, prima c'è stato un bel dibattito tra lui e Lippi, Massimo Lippi, sul fatto che Albert è di quell'opinione che noi non abbiamo giocato bene, non meritavamo sto risultato, se lo meritiamo lo dobbiamo sempre a lui, a Leo, e che non si può giocare il Barça per filosofia, non può giocare così. E l'ombre della rosarinata, chiamatelo così. È l'ombre della rosarinata. Però io ho detto, non è, ho premesso a inizio trasmissione, non è il nostro stile, non è la nostra filosofia. Però, nella filosofia del cingurri e di questi giocatori, perché questi giocatori vogliono giocare così, attenzione, se no avrebbero, Fabio, che è uno che la cancia l'ha vissuta e la vive, sa bene che se al giocatore gli va bene te la fa pagare sulla cancia. A giocatore gli va bene, ha fatto le scelte giuste, Arturo Vidal al posto di Arturo, Coutinho al primo tempo più messo a centrocampo e il secondo tempo, quando Coutinho non la prendeva più, ma proprio non la prendeva proprio più, 4-4-2 con Sergi Roberto. Il secondo gol, chi sta su quella palla lì, che viene data in profondità, c'è Sergi Roberto che l'appoggia al Ciarrua e la dà poi sul palo e poi Leo segna. Quindi, alla fine, c'è avuto ragione Ernesto Valverde. Alla fine è la cancia, è il campo che parla e dà il risultato. Maggi Valverde lo aveva detto oggi in conferenza stampa, ha detto, quando l'hanno detto, il Varsa ha perso il suo stile abituale, ha detto, non ho niente da dire in quel senso, tutto il contrario, a volte è il rivale che ci impide di sviluppare il nostro gioco. Io vi posso dire che dal campo l'ha detto anche Lippi, l'ha detto anche Lippi, era fortissimo, però io ho fatto una premessa, partendo dal presupposto che se su quella panchina c'era uno, un cruffista, e io c'era un cruffista, Arthur già in questo momento sarebbe stato il più forte centrocampista del mondo, avrebbe giocato e quindi Arthur ti avrebbe fatto cambiare in altro modo la partita. Però Valverde l'ha vista così e ha fatto così. Io dico, ripeto, ho fatto questa premessa, poi io sono contento del risultato, me lo leggo, gioisco e vado a Liverpool sperando di portare a casa la finale di Champions. Petitio, tu come l'hai vissuta e da quale parte stai su questo tipo di dibattito? Premesso che mi sembrava quasi, paradossalmente, un po' un, tra virgolette, sogno vivere una semifinale. Il distrutto degli ultimi quattro anni bruttissimi, scolminati con tutti i conflitti con la Roma, assolutamente fuori dall'ordinale. Quindi ci stava arrivato a questo punto di avere moltissima tensione, anche perché comunque l'avversario è uno che non ha mai staccato veramente un attimo la spina, a voi anche perché si gioca la Premier con il City e quindi è costantemente sul filo del rasoio, come si suol dire. Devo essere onesto, però vedendo il primo tempo ho avuto ottime sensazioni, perché abbiamo giocato, abbiamo tenuto il campo, abbiamo messo comunque lì e fu nelle condizioni lì. Non chiare mai importa se non con quella conclusione, sì pericolosa, ma comunque velleitaria di Mané. Poi nel secondo tempo ho detto, caspita, Liverpool è salito, vuole mettere sulla fisicità, tipico delle squadre di Premier. Speriamo che saremo bravi a soffrire, cosa che poi è effettivamente avvenuta, perché nonostante il tanto concesso che ha fatto il Liverpool, il Liverpool sembrava il basso, per buona parte del secondo tempo, almeno a primi 20-25 minuti. Abbiamo tenuto bene, abbiamo concesso relativamente poco, perché poi di conclusioni veri in porta, prima del giocatore non ce ne sono state, la linea difensiva si è mossa con ordine permettendo poi di mantenere il punteggio e poi quando l'ho messo il risultato viene da sé. Nonostante in questo caso si tratti di un punteggio bugiardo, ma la Champions si vince anche così, diciamoci la verità. È normale, anche a me piacerebbe, a differenza del pragmatismo che sta portando il Cimurri, a avere un allenatore che rispolveri al 100% quella che è la nostra filosofia. Però magari un domani chi ci vieta di vedere i sciavi sulla nostra panchina? Però per ora, bene con Valverde, chi ci vieta di vedere i sciavi sulla nostra panchina? Ah, io ho capito Sarri, mi ero già preoccupato. No, 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 no. No, ti ritroveremmo a giocare con 15 giocatori, no. No, sennò poi Versalico, come si chiama quello? No, Usai, la Higuain e compagnia cantante, va bene. Dai Higuain, magari anche Giorgino. Esattamente, esattamente. Higuain, esattamente. Come metronomo, no. Però, dicevo, per ora i giustati hanno ragione a Valverde. E mi sembra giusto essere per al suo fianco e supportarlo fin quando lo farà sulla nostra panchina. Ma ci mancherebbe altro, per carità. No, no, ma io però continuo a dire, ragazzi, i giocatori vogliono questo, eh. Cioè, diciamo, mai... Che dici, Fabio, la gancia? Perché comunque non è un allenatore con un pugno di ferro che si vuole imporre anche sotto qualche aspetto. Che altrimenti mi sarebbe fatto a loro un bel top. Fabio, al di là delle... Insomma, poi dici un po' come hai vissuto. Come avete vissuto poi tutte e tre la punizione del Leo. La partita del Leo, eh. Perché poi... No, io mi volevo soffermare un attimo su questo punto. Eh, prima partita bravo. Prendiamo di questo. Ah, del Leo. Ho parlato molto in Spagna questa cosa. Avete punzecchiato il secolo? Di non giocare bene. Allora... Allora... Ora... Faccio un allegri in turno. No, allora... Ma giocare bene. No, io ho fatto. Cioè, io voglio sapere una cosa. Giocare bene, così, dalla stampa catalana, io voglio sapere una cosa. Giocare bene, filosofia barca, tutto quello che dicono loro. Ma hanno capito di fronte chi avevamo o non hanno capito? Perché di fronte avevamo una delle meglio quattro squadre del mondo. Cioè, avevamo un Liverpool che è in forma. Perché è un Liverpool che ha un punto dal Manchester City a 20 dalla terza. Un uno del campionato, se non più difficile al mondo, secondo me è il campionato più difficile al mondo. Lo dimostra le squadre, Alcena, le certe, che rischiano di andare in Champions League e vanno al finale di Europa League. Quei cose sicuramente dimostrano che le prime sette di Premier League sono tutte squadroni. Ma si rendono conto di chi avevamo di fronte, perché a volte non si rendono conto di chi avevamo di fronte. Avevamo di fronte una squadra che non fa calcoli. Qualunque squadra che va, attacca. E' l'unico, e ha messo Vidal, Valverde, e fa dei messi in maxi, che io non sono uno pro Valverde. Ma ha messo Valverde, è stata una delle mostre accettate che ha fatto in tutto l'anno. Ha messo dinamismo, aggressività in mezzo al campo, fisicità, cosa che il Liverpool è superiore a noi fisicamente. Mettendo l'alto, c'era il rischio di essere schiacciati fisicamente. Il dominio totale del gioco lo hai con Xavi Iniesta e Muschets, il caro Max. Ma Xavi Iniesta...